Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi, eccoci qua come promesso stamane. Però prima così di parlarvi del titolo di questo video, è così una cosa personale che mi riguarda, ma ormai così ho fatto un po' parte della mia famiglia e quindi così mi sembrava giusto trasmettermi quello che in questo momento mi è stato d'animo. Stamane mia figlia di 5 anni si è svegliata con febbre che è arrivata in tarda mattinata fino a 38. Ho avuto la fortuna di poter contattare subito la pediatra alle 14.30, fare un salto da lei che dalla sua esperienza ha subito diagnosticato una polmonite batterica, ha escluso assolutamente che si possa trattare di virus e gli ha dato una cura antibiotica dicendomi appunto di monitorarla comunque nelle prossime 48 ore. Io più che anche su tutto quello che sta succedendo, di avere una preoccupazione personale, cerco chiaramente sempre di seguire tutte le regole, la mia preoccupazione chiaramente è per la mia famiglia, per mia figlia e facevo una riflessione. Vedete io quando sento le persone farsi prendere dal panico, dall'isterismo e soprattutto quelli che sono preoccupati per la propria salute, sono preoccupati di morire, rispondo che la vera preoccupazione non può e non deve essere questa per una ragione molto semplice, sono i numeri a dircelo e a confermarcelo, sono le situazioni a dirci che purtroppo, ed è questi che dobbiamo difendere, sono le persone che hanno già due o tre patologie che ci rimettono la vita e ripeto sono questi i nostri nonni, i nostri padri che dobbiamo proteggere. Per il resto della popolazione non è un grande problema, il problema è un altro, il problema di natura psicologica. Ora voi immaginate ad esempio una famiglia, come può essere la mia e tante tante altre, dove un giorno si scopre che papà e mamma sono positivi e invece ad esempio perché può succedere, i figli no. Questo vuol dire dividersi, perché vuol dire dividersi, perché marito e moglie possono curarsi sotto lo stesso tetto, ma i figli necessariamente, che magari appunto sono negativi, dovranno andare in un altro luogo, dai nonni sanno la fortuna dei nonni e se no non si sa, capite? E' questa la cosa che personalmente mi preoccupa e ci deve preoccupare, ragione per la quale ancora di più, senza frenesia, ma semplicemente rispettando quelle due tre regole, dobbiamo seguire questo tipo di procedimento. Questo è il problema maggiore, quindi rimanere tranquilli, salvaguardare la propria famiglia e fare quelle due tre cose che sono necessarie. Ora veniamo al titolo di questo video. Stamane, dopo la mia presentazione, dopo quello che ho avuto modo di raccontarvi per quanto riguarda le responsabilità molto precise da parte della Germania, qualcuno mi ha scritto, sia sui social che commentando su YouTube, che sia a questo punto non era più importante, era inutile fare polemica, qualcuno mi ha addirittura scritto una frase del tipo, ma cosa vuoi fare, vuoi dichiarare guerra alla Germania? In questo momento appunto qualcuno sottolineava giustamente che bisogna guardare a come risolvere il problema. Io sono perfettamente d'accordo su questo, nella maniera più assoluta. Ho avuto modo di dirlo anche due tre giorni fa quando ho iniziato ad accennare di questa cosa, cioè che non era l'Italia da dove sarebbe partito questo virus, ma appunto questo manager tedesco. Intanto apro una parentesi, però quando sembrava che l'untore, tra virgolette, fosse italiano, tutto il resto d'Europa ha puntato il dito sull'Italia, chiusa parentesi, e quindi non capisco perché adesso noi invece dovremo far finta di niente e non sottolineare come stanno le cose. E attenzione, c'è una enorme differenza. Vedete, noi avremmo fatto anche tantissimi errori e sicuramente il nostro governo è stato un autentico disastro. Ha fatto una comunicazione totalmente sbagliata, però noi italiani abbiamo avuto un merito. Il primo caso che si è verificato il 22 di gennaio, il manager 38enne di Codogno, noi lo abbiamo dichiarato e da lì abbiamo lavorato. Non abbiamo nascosto nulla. Quello che invece ha fatto la Germania, questa è la grande differenza che ha fatto la Germania, che hanno fatto altri paesi e ha accertato che sin dai primi giorni di febbraio in Spagna sono morte tre persone per coronavirus. Questa è la grande differenza. Ora però esiste un altro problema. Il problema è questo. È quello che stanno e hanno fatto altri paesi europei, tra i quali la Francia, la stessa Germania e altri paesi ancora, che hanno cercato di sfruttare la nostra debolezza. A proposito, quando un giornalista come Padellaro, che sicuramente non è vicino alla destra, tutt'altro, sottolinea questo fatto dicendo che le altre nazioni hanno sfruttato la debolezza dell'Italia, insomma vuol dire che la cosa è grave, perché è un attacco molto diretto anche all'Unione Europea e ai paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Ora, qual è però la cosa molto molto seria e molto grave? I comportamenti che hanno avuto questi paesi. Partiamo dalla famosa pizza, il pizzaiolo che sputa sulla pizza e questo spot che ha fatto Canal Plus, quindi non è una cosa che è apparsa su un social, Canal Plus. Voi pensate che questa gente non fosse al corrente o non gli fosse chiaro che assolutamente era una cosa sbagliata, era una cosa che è di cattivo gusto, ma c'era dietro un fine, un fine chiaramente, quello di speculare su queste cose e la stessa cosa l'hanno fatta quei paesi tra i quali anche la Germania di richiedere, se vi ricordate, i certificati sui prodotti italiani antivirus. Che chiunque, qualsiasi scienziato, virologo, sa perfettamente che non c'entra nulla, che è un'autentica stupiragine. E voi pensate che non lo sapesse la Germania, la Francia? Certo che lo sanno, certo che lo sanno che è una stupiragine, ma qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di far pensare all'opinione pubblica che esiste un problema, che i prodotti italiani sono a rischio. Perché questo? Perché invece magari di poter vendere il parmigiano, il nostro parmigiano, cercano di vendere il loro parmesan, capite? E così per tanti altri prodotti. Invece di poter vendere i prodotti di qualità, le primizie italiane, cercano di spingere i loro prodotti. Questa è la realtà. E guardate, non è fantascienza. E una cosa che vi posso assicurare sta esattamente in questi termini. E anche su questo, 24 ore dopo, Padellaro, dopo essersi espresso a 8 e mezzo dalla Lily Grubber, dicendo che l'Europa ha sfruttato la debolezza dell'Italia, ha detto un'altra cosa. Ha detto che i paesi, questi paesi, hanno sfruttato da un punto di vista commerciale questa situazione. Questa è la cosa importante da sottolineare. E questa è la cosa gravissima, gravissima, per la quale io credo che sarà giusto quando le cose saranno un po' cambiate. Speriamo, ci auguriamo presto, chiaramente, puntare il dito contro questi paesi e agire. E agire contro questi paesi. E soprattutto, finiamola con questa storia dell'Europa. Si rivoltano nella tomba i padri costituenti. I padri costituenti non volevano un'Europa solamente fondata sull'economia e sulla finanza, ma un'Europa solidale. Ma quale solidarietà? Ma quale solidarietà? Che appena è stato possibile ci hanno messo in chiarissima difficoltà e hanno cercato di sfruttare questa situazione. Lo dicono, appunto, anche uomini di sinistra. Allora, finalmente, questa è la realtà. E ripeto, io mi farò promotore quando le cose saranno un attimino più tranquille, quando saremo di fronte a questa parabola discendente per quanto riguarda la diffusione del virus, mi farò promotore di iniziative, di iniziative contro la Germania, magari anche andando davanti al consolato tedesco, perché no? Così come andremo davanti al consolato cinese, faremo delle iniziative, perché ora di finirla con questa storia di questa Europa che assolutamente unita non è mai stata, queste sono le prove lampanti rispetto anche a quello che sta succedendo al confine fra Turchia e Grecia, ma soprattutto perché hanno procurato un gravissimo danno al nostro paese, uno, un danno commerciale, di carattere commerciale, ok? Due, due, perché in qualche modo, quando hanno puntato il dito contro l'Italia, per quanto riguarda l'epidemia, e hanno pensato che fosse un untore il nostro paese, chiaramente invitando i propri concittadini a non venire più in Italia, a disdire tutte le pronotazioni, anche quelle che ci saranno quest'estate, hanno commesso un altro reato, procurato allarme. Quindi da un lato procurato allarme, perché noi non eravamo gli untori, né più o meno di quello che lo sono loro in qualche modo. E in seconda battuta è perché da un punto di vista commerciale hanno avuto dei comportamenti scorretti che vanno sanzionati. Con questa riflessione, che chiaramente vorrei che commentaste anche voi, questa mia affermazione più che una riflessione, io vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.